Rinviato nuovamente l'appuntamento con la vittoria. Non va oltre lo 0-0 l'Ebolitana contro l'Aprilia. Per la quarta volta consecutiva Marino si affida ad una formazione nuova. Questa volta spazio al 4-3-3 con Corsino e Pignatta a supporto di Broso. Ma la partita del Dirseo è esattamente uguale alle ultime prestazioni casalinghe dei Biancoazzurri. Ritmi blandi, classici errori grossolane ed una sterilità offensiva che prosegue. Al sesto l'Aprilia potrebbe già sbloccare il risultato con Germani, ma Anicastro gli nega la gioia del gol. La risposta dell'Ebolitana non arriva, nonostante gli ospiti concedono ampie praterie in contropiede. Al 28esimo si rifavive in attacco l'Aprilia. Tutto nasce da un presunto fallo di Germani su Veneri. Sulla chiusura dell'azione, Jovene sbaglia completamente la mira. E qui di fatto finisce il primo tempo. Nell'intervallo Marino prova a ridisegnare il suo 11, fuori Broso e l'impalpabile Pignatta, dentro Lococo e Liguri per un più abbottonato 5-3-2. Nove giri di lancetta e l'Ebolitana riesce a sporcare finalmente i guanti di bifulco. Ma il colpo di testa di Veneri sugli sviluppi di un calcio di punizione di Nazani non è pericolosissimo. Lo spirito comunque sembra quello giusto. Al 19esimo ci prova Lococo, ma questa volta bifulco deve respingere con i pugni per evitare i pericoli più grossi. Sempre bifulco si supera la mezz'ora su Corsino e ci mette così una pezza sull'errore difensivo dei suoi. Qui terminano le speranze dell'Ebolitana, che fa comunque un piccolissimo passo in classifica, aspettandola tanto attesa vittoria. Intanto in società ci si chiede che fine abbiano fatto i 70.000 euro di diritti TV. Il presidente attuale Daniele Piraino sta attendendo le risposte dell'ex numero uno cicalese, che fa comunque sapere di aver ottemperato delle aspettanze passate. Ho visto miglioramenti sotto tutti i punti di vista, anche sotto l'aspetto fisico. La squadra comunque ha speso molto, ha dato tutto, ha corso fino alla fine. Sotto l'aspetto prettamente del gioco non è che abbiamo fatto tantissimo, bisogna dirlo. Però le nostre occasioni le abbiamo costruite, siamo stati molto ordinati in fase di non possesso. Quindi sono soddisfatto per quello che posso essere soddisfatto. È ovvio che mancano tante nuove partite. Questo punto secondo me può essere importante per il morale, perché è venuto facendo la prestazione, dando tutto quello che i ragazzi avevano da dare. Come dicevo prima, alla fine avrebbero meritato senz'altro la vittoria. Quindi fa ben sperare per il futuro. Però il futuro, se vogliamo fare degli altri risultati, bisogna partire da questa prestazione. È ovvio che non possiamo fare un altro passo indietro come è stato fatto a Milazzo.